Meliciano per Tecla Hollus quest'anno nel nome di Sauro. Nel piccolo paese alle porte di Arezzo è infatti tornato l'appuntamento con la musica e il divertimento ed ovviamente la solidarietà. Nel nome di Sauro che era un nostro carissimo amico che da quattro anni ha pensato a organizzare questa scena e è il primo anno che non è con noi, però grazie a lui continuiamo a fare questa opera di conoscenza della nostra realtà di Tecla e nel frattempo riusciamo a raccogliere i fondi per mandare avanti i nostri progetti. L'obiettivo resta sempre quello di sostenere i progetti promossi dall'associazione Aretina Tecla Hollus in supporto alle comunità dell'Africa che vivono in situazioni di estremo disagio. In questo momento stiamo seguendo i bambini malnutriti a Son Gambele nella Tanzania insieme ai medici Africa Qamme e andremo adesso in Managascar a inaugurare la casa per i bambini col piede torto che abbiamo finito di costruire e che abbiamo raccolto l'anno scorso i fondi anche grazie alla cena del 2018.